Eccoci, allora è con molto piacere che presento il prossimo relatore che ha un compito non semplice, perché ha un titolo della relazione molto ampio, perché parte sicuramente dal riconoscimento delle complessità diagnostiche e dei quadri clinici complessi con la sovrapposizione tra il disturbo di base, cioè l'ADHD e le patologie ad esordio generalmente successivo che frequentemente complicano il trattamento e la valutazione del soggetto adolescente e adulto e ci porterà all'interno di una iniziale valutazione dei trattamenti. È con noi il dottor Giancarlo Giupponi che si occupa da tanti anni di ADHD nel soggetto adulto, lavora con il professor Conca a Bolzano e fa parte di questo centro che è stato sostanzialmente il primo a portare in Italia la tematica dell'ADHD in età adulta, se non sbaglio nel 2009, quindi ha un'esperienza di più di 15 anni di trattamento. Sono molto contento anche perché è un amico e sono sempre molto interessato alle sue esposizioni, quindi gli lascio la parola. Grazie Gianni, buongiorno a tutti, mi sentite il microfono va bene? Bene, bene, facciamo entrare gli ultimi e poi chiudiamo la porta, perché mi hanno detto che qui sono Milano, sono molto precisi, siamo già a Verona, c'era già un 40 minuti l'altro giorno di invitato, poi a Roma non ne parliamo, dico bene? Va bene, buongiorno a tutti, io sono Giancarlo Giupponi, lavoro a Bolzano e da qualche anno abbiamo un ambulatorio di ADHD dal 2009 e ci occupiamo in qualche modo di consigliare e curare le persone nell'età adulta, un ambulatorio per l'età adulta. Io mi sto qui davanti, devo guardare ogni tanto il mio computer perché non mi ricordo la sequenza delle positive e poi mi perdo, quindi è peggio per voi che vado fuori tema. Di cosa parlerò oggi? Allora, faccio la prima introduzione in generale, poi parlerò delle comorbidità, ho messo Giudus, qualcosina in generale, poi rischio di suicidio, qualcosa di breve sui aspetti di genere e poi parlerò della terapia. Gianni naturalmente mi dice quanto tempo ho, se devo accelerare o finire un po' il tutto, me lo dice. Bene, io parto, allora, scusate, andrò avanti tu. Allora, gli ADHD, io riporto sempre alcune immagini da sempre e le ripeto, Gianni mi prende in giro perché ho sempre la parte iniziale verde e la finisco con la verde. Allora, gli ADHD fa parte, un po' semplice, dei disturbi di sviluppo assieme all'autismo. Cos'è che ha di particolare? Le persone che hanno ADHD sono persone intelligenti, simpatiche, attive, che hanno tantissime, come dire, ottime qualità, però, però, a vedere solo aspetti negativi, però purtroppo spesso quando vengono queste persone si vede una chiara discrepanza tra quello che, le loro qualità, le loro possibilità e quello poi che magari combinano nella vita. Cose semplici per loro diventano complesse. Fa parte, naturalmente, l'autismo, sull'autismo vediamo, penso che il Corriere della Sera pubblica un articolo al giorno, l'autismo fa parte di questa classe di disordini, ha una prevalenza che è quasi un terzo rispetto a quella dell'ADHD. L'autismo, secondo il CM5, ha 1 in percentuale, è 1,3 a 1,6 sugli americani, ma invece l'ADHD ha delle prevalenze che sono un po' più alte, anzi, il doppio, il triplo, sempre secondo gli stessi studi. Naturalmente c'è una vicinanza tra i due sindromi, sappiamo che un 75% delle persone con autismo viene trovato qualche sintomo poi dell'ADHD, soprattutto questa mente perseverante oppure questi problemi di concentrazione, per il contrario, quando si fa la diagnosi dell'ADHD, un buon 25-80% presenta anche qualche sintomo nell'aspetto dell'autismo. Come possiamo classificare l'ADHD, possiamo classificare lo psicologico, sociale, biologico e poi avanti? Come ho detto, l'ADHD è dei punti di forza, curiosità, creatività, flessibilità, insomma non è tutto negativo, naturalmente questi utenti che stanno bene non vengono da noi e non ci chiedono aiuto. E punti di debolezza, naturalmente punti di forza importanti, che poi quando si accumulano possono portare a un grave disagio, una grave disfunzionalità, alla comparsa ovvero di un proprio disturbo, con delle gravi conseguenze. Sintomi, li abbiamo ripeto più volte, quindi io li salto, dato che li conoscete già, questo è una chiede positiva, anche nel passaggio dall'infanzia all'adolescenza all'età adulta i sintomi cambiano, ogni fase della vita ha un quadro clinico, un fenotipo che in qualche modo si differenzia. Ogni fase della vita, come dire, rappresenta le quadri cliniche, l'osservazione clinica che sono un po' differenti. Quindi purtroppo, l'ha già detto prima Giovanni, il dottor Migliarese, lui non conosce gli aspetti allucinari della vita di questi utenti per andare a ricercare poi questi sintomi. Vai pure avanti. Ancora di più? Non me lo metto in bocca, lo metto, lo ciuccio. Allora, si può regolare magari l'intensità? A volte si può regolare e mantenerla? No, c'è una regolazione di intensità. Va meglio con questo? Va meglio? Sì, 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 va bene, va bene. Va bene. Allora, un problema che capita spesso, quindi lo vi dico sempre, è quello che si vede soprattutto nell'adulto, quando viene l'adulto a chiedere di aiuto, si vede questo problema nella organizzazione. C'è una persona che ha bellissime capacità, tantissime cose positive, però non riesce a funzionare. Giustamente Berkeley ha detto un disturbo programmatico dell'autoregolazione, cioè non funziona, ha tutto, però non riesce a mettere in atto tutte queste capacità che lui ha. Vai pure avanti. Purtroppo l'ADHD, quando soprattutto si presenta nell'adulto, si presenta con qualche ormennità. Ci sarà qualche ADHD che si presenta puro, una diagnosi, una madre che scopre, un papà che scopre di avere l'ADHD perché ha il figlio, si sta diagnosticando l'ADHD, discute con lo psicologo, con una città infantile e da qui risale su se stesso, qualcuno che naviga in internet, ma la prassi normale, gli utenti che si vengono a noi, hanno qualche altro motivo, questione di subadattamento, stupodansia o qualsiasi altro problema di comorbidità, è quello il motivo che lo porta da noi e da lì poi risaliamo a scoprire cosa c'è la base. Nell'infanzia i core symptoms caratterizzano pienamente il quadro clinico, l'adolescenza è un po' di meno, l'età adulta è ancora di meno. La classica piramide iceberg, faceva vedere Zuddas per distinguere cosa succede nell'ADHD, quando una persona viene, offre la piramide, l'apice di questo iceberg e la persona sotto non va a vedere cosa c'è, molti colleghi naturalmente si fermano all'aspetto orizzontale del quadro clinico e non vanno a scavare cosa c'è sotto, questo è un problema perché sicuramente le comorbidità sono uno dei punti della mancata di agnesi, ma purtroppo l'ADHD quando è presente influenza quadri clinici che sono sempre più complessi e anche le terapie poi sia di intervento psicoterapeutico che di intervento farmacologico sono un po' diverse. L'ADHD influenza un aumento del rischio di alta comorbidità, un esodio precoce delle comorbidità, un'evoluzione più grave persistente e poi spesso una peggiore risposta ai trattamenti farmacologici, quindi su tutte le comorbidità che ci sono il quadro clinico purtroppo diventa un po' peggio. Questo è un vecchio studio di Kessler sul faso copiano americano, lo cito perché più o meno le studie attuali dicono le stesse cose, le comorbidità frequenti, disturbi d'ansia fino al 50% delle persone con l'ADHD hanno un disturbo d'ansia che viene diviso in rapporto alle sottoforme, disturbi affettivi anche fino a un 40% ha un disturbo in qualche modo affettivo, dipendenze anche, qui tenuto valori un po' più bassi, 15-20%, i percentuali sono maggiori che poi andremo a vedere, ma anche qui in questo caso c'è una forte presenza di questo problema, di un disturbo dell'uso di sostanza. Questo studio più attuale è fatto nel 2020, nel 2018 scusate, questo studio dice sostanzialmente come si scorda che ho detto prima, sud, depressione, disturbi effettivi, ansia più frequenti, indica però che c'è una grossa differenza tra maschio e femmina, anche se può sorprendere, il sud è sicuramente il disturbo di sostanza più frequente nei maschietti, ma poi depressione, disturbi effettivi, ansia, sembrano essere più frequenti nei campioni femminili con ADHD rispetto agli femminili, oltre poi alla presenza di disturbi T2, sono disturbi di diabete mellitra di tipo 2, ipertensione, che anche sono più frequenti rispetto alla popolazione generale. Eppure, vai pure avanti. Vai pure avanti, tanto l'ho detto già queste cose. Allora, quando c'è un ADHD e un disturbo bipolare, lo ripeto, c'è un decorso più grave contente di suicidi, c'è un rischio di prima manifestazione precoce di un disturbo di dipendenza come alcolismo ad esempio, e poi c'è generalmente una maggiore compromissione psicosociale. Ritorno sulle dipendenze, sicuramente il collega Nicola che lavora a un'università che si occupa tradizione di alcolismo e di dipendenza, potrà dirlo, purtroppo le dipendenze sono spesso un problema che non viene affrontato dagli psichiatri, molti psichiatri che ci assieme negli altri disturbi psichiatrici a volte sorvolano su questo rischio, dicono ma lo fa il certo, lo fanno altri servizi. Purtroppo le dipendenze va sempre, quando viene un soggetto esplorato, i disturbi psichici hanno 2,7, quasi 3 volte un rischio maggiore di risolvere una dipendenza, un 7 quando c'è una dipendenza, un 7 volte il rischio aumenta di una qualche urminità psichiatrica e anche sull'alcolismo ci sono dei dati molto importanti, quindi va sempre esplorato il problema di dipendenza quando si presenta una persona con qualsiasi diagnosi psichiatrica. Per quanto riguarda i DUS invece, la DECTI predispone ad un uso precoce del DUS, ha una più alta tendenza, ha una più alta variabilità nell'uso di sostanze, generalmente i pazienti con un DUS sono più giovani, nel caso della DHD, hanno un presteso danno funzionale, una sostanza più grave, questo avviene indipendentemente alle comorbidità, cioè se sono comorbidità presenti come disturbi di personalità sociali, disturbi di personalità o altri disturbi, questo aumenta grave al quadro clinico, ma anche sull'ADHD di per sé crea di per sé un rischio maggiore di avere un problema di DUS. Van Ammerich ha cercato di differenziare questi percorsi, ci sono vari studi che vanno a cercare di vedere quale territorie, dato quel fenotipo di ADHD che si presenta nell'infanzia, una forma di attentiva, un'altra forma, con altri tratti, che percorso avrà? Ecco, sui studi c'è qualche dato, ma non ci sono ancora dati così sicuri, quindi comunque qualche dato lo indica ancora, vai pure avanti. La comorbidità con dipendenza è molto elevata, secondo la letteratura abbiamo studi che vanno dal 2 all'80% quindi una variabilità molto importante, Van Cleen ha cercato di ridurre questo spettro, ha andato a fare uno studio un po' più barchareggiato, ha visto che era dal 5 al 3 al 32%, altri studi indicano percentuali maggiori, Lugo Boni di Verona ha fatto uno studio, l'ha indicato fino al 44%, altri studi lo portano addirittura fino al 50%. Naturalmente è importante la sostanza d'abuso, il paese, che stemi classificatori vengono utilizzati nelle ricerche di questa prevalenza. Io ho riassunto qui come mai ci sono queste differenze di questa prevalenza, possibili sono nelle differenze di criteri diagnostici, tanto più uso criteri stretti, tanto più probabilmente ci saranno casi che mi sfuggono, tanto uso più criteri larghi, tanto probabilmente prenderò più casi che magari sono un po' più dubbi. Dipende dalla droga primaria di abuso, dall'influenza della droga dell'astinenza, l'astinenza naturalmente mi va a sfasare la diagnosi, una persona di astinenza mi simula tutti i sintomi dell'ADHD, i fattori specifici del paese, l'impostazione del trattamento, il trattamento ambulatoriale e poi avanti, altri fattori. Sicuramente quando si fanno gli studi è importante avere una diagnostica che dovrebbe essere un standard, avere delle persone esperte e integrare poi allo studio delle informazioni aggiuntive e poi avanti. In generale, gli ADHD hanno un'elevata presenza di abuso di sostanze, hanno un peggior successo di terapeutico, hanno più interazioni della terapia rispetto agli altri persone soffranti di DUS, un'elevata mortalità, è sottognosticato quando i criteri sono stretti, come ho detto, è sovredenutinato se i criteri sono più larghi. Vai pure avanti. Gli ADHD in generale hanno una scarsa percezione di se stessi, non legano spesso i disturbi ai sintomi, si sviluppano strategie per smascare i sintomi. Quando una persona di ADHD fin dall'infanzia, nel corso della vita, da solo andrà a cercare di trovare strategie per riuscire a convivere con questi sintomi, è una cosa naturale. Sicuramente non andrà a fare un lavoro sedentario, cercherà un lavoro in cui riesce a scaricare questi sintomi, e questo è anche il motivo che spesso gli utenti venivano da noi quando si rompono, tra virgolette, uno sportivo che gioca bene a tennis, un corridore che faceva maratone e quindi grazie a questa intensità sportiva riusciva a compensare parte dei sintomi, o un incidente, un attendinito, un problema che non gli permette più di scaricare come prima, diventa un paziente e viene al nostro ambulatorio. Rischio di suicidio, uno dei problemi è il rischio di suicidio, purtroppo è elevato nelle ADHD, questo è un studio svedese che è andato a vedere una casistica molto importante, ha rilevato come il rischio di tentativi di suicidi, i suicidi completi, era maggiore nelle ADHD e rimaneva questo rischio maggiore, anche quindi scorporato dalle comorbidità, quindi le ADHD di per sé produrdeva un maggiore rischio di suicidio. E secondo i dati ultimi pubblicati nel 2020, questo rischio sembra essere maggiore nelle donne, le donne presentavano maggiori tentativi di suicidio e maggiori atti autolesivi rispetto ai maschi. Fox, che è un lavoro del 2014, ha cercato di rassumere la letteratura, ha scritto bene, quindi lo cito spesso da questo lavoro, ha cercato di domandarsi perché le persone con ADHD avrebbero questo rischio maggiore di suicidio. Lui è andato a vedere, fino al 2014, la letteratura e l'ipotesi che ha visto, ha detto beh sì, probabilmente le comorbidità possono giocare un ruolo importante, in ogni caso già nel suo lavoro diceva che è importante però che le persone con ADHD facciano uno screening su questo rischio. Questo è un lavoro pubblicato tre anni dopo, quindi ha fatto un rassunto di 26 studi, vuol dire che in due anni sono usciti su PubMed 26 nuovi studi, vuol dire che il tema era molto pesante, era molto interessato, più o meno dice le stesse cose e anche questo, a vedere come si correla in modo importante con il rischio di suicidio e anche lui consiglia uno screening maggiore. Come possiamo correlare questo maggiore rischio di suicidio? Comorbidità, semplice da dire, più ce n'è, è chiaro, se uno ha un disturbo di personalità, un disturbo effettivo, ha un problema di abuso, insomma, un disturbo post-traumatico di stare, più problemi ha, più questo, comorbidità, aumenta il rischio di suicidio. Impulsività di funzioni esecutive, questi sono sintomi che si correlano anche a un maggior rischio di suicidio, depressione, disturbi polari, comunque anche questo può giocare un ruolo, e trattamento farmacologico, queste sono le tre ipotesi per cui, per quei motivi di suicidio è l'idea che sarebbe più alto. Vai avanti, vai avanti, vai avanti, allora ci sono tanti farmaci, tanti farmaci che naturalmente condizionano il quadro clinico, fino al 2004, nel 2004 era uscito dalla FDA una warning che diceva, attenti, non dare farmaci stimolanti, oppure insomma, tomocritine, oppure anche antidepressivi, ragazzi giovani soprattutto, intorno ai 21 anni, perché questo potrebbe determinare un aumentato rischio. Effettivamente c'erano state disegnazioni su uno studio olandese che avevano un po' pregiudicato il trattamento farmacologico in questi soggetti. Questo studio per il 2014 ha fatto un po' ordine e è andato a dire in modo chiaro, è uno studio, anche questo qui molto dettagliato, che non ha trovato alcuna associazione tra trattamento farmacologico nell'ADHD e rischio di suicidio, cosa che ha visto? Che le sostanze stimolanti in qualche modo avrebbero un effetto protettivo, farmaci stimolanti come la tomocritina avevano un leggero aumento, però questo aumento non era significativo, quindi non c'era una correlazione tra trattamento farmacologico e rischio di suicidio. Sono usciti poi altri studi che hanno più o meno confermato questo, un studio svedese, uno studio cinese, questo studio coreano che ha concordato, ha risoportato questa cosa qui, dice una cosa in più, che i farmaci stimolanti avrebbero un rischio, dando i farmaci stimolanti, questi avrebbero quasi un terzo o meno dei rischi di suicidio, che è un dato molto rilevante, quindi maggiore rispetto agli altri dati che ho citato prima, il 19-22%, avevano solo un rischio minore, il 19-22% rispetto dei rischi di suicidio col trattamento. Quindi in qualche modo consigliavano, se c'è da dare il farmaco va dato. Qui cosa che diceva lo studio, quando la persona sta poco bene, inizia un trattamento, i primi mesi di trattamento hanno un aumentato rischio, anche per questi soggetti, il rischio di suicidio aumenta, però dopo tre mesi il rischio va diminuendo, quindi quando si imposta la persona a livello farmacologico, questo è un effetto stabilizzante e nei mesi a seguire questo rischio va diminuendo, quindi il fattore protettivo è sui mesi successivi, non all'inizio, ma del resto è anche evidente, se uno sta male, è chiaro che lì c'è un maggiore rischio, va in trattamento, inizia il trattamento, prima che il trattamento farmacologico lo stabilizzi, passa insomma, non è che subito un effetto subitaneo, ci vuole un po' di tempo. Andotropia, un tema anche che viene spesso dibattuto è la differenza di genere tra maschio e femmina, voi sapete che nella letteratura c'è una grossa differenza, quello che si vede è che tra bambini, sono spesso bambini maschi, tra bambine un rapporto 3-1, 4-1 nell'infanzia, questa differenza passando l'adolescenza, l'età adulta e andando avanti con l'età, sembra sottigliarsi, come mai? C'è cercato di capire come mai, sicuramente ci sono delle differenze, le ragazze mostrano spesso sintomi più internalizzanti, ci spiegano le analizioni infantili, rispetto ai maschietti che hanno più internalizzanti, quindi sintomi che si notano di più rispetto a una bambina che magari in ansia è depressa ma disturba di meno, un bambino invece che è agitato, vivace e fa casino, viene subito beccato e subito come dire ripreso. Vai pure avanti, come si può spiegare? Allora queste differenze possono essere reali, c'è davvero un miglioramento dei sintomi impulsivi per attivi nell'arco della vita e di conseguenza quindi questa prevalenza diminuisce, dipende da una diversa presentazione clinica, i sintomi anche negli C10, i DSM5 erano dettagliati per i maschietti bimbi, purtroppo c'è spesso, c'è una grossa discussione sui criteri clinici, soprattutto nell'adulto che nell'adulto sono stati tradotti in qualche modo con le caratteristiche dell'adulto, è stato fatto perché era difficile negli altri sintomi in adulto, aveva creato dei problemi nelle fasi di transizione, ma in ogni caso sembrano più aderenti a certi quadri clinici rispetto ad altri. Dipende dal tasso di presidenza di sintomi di ADHD, può essere che dato che le donne presentano più la forma disattentiva, questa sia più radicata e più che si permanga più nel tempo rispetto ad una forma iperattiva e impulsiva che magari va un po' più scemando o forse per problemi genetici, due X rispetto ad un X più non danno un'espressione diversa, le femmino sono soli più elevate per avere l'amministrazione dei sintomi e anche questo forse può giocare un ruolo. Questo è un studio che è uscito nel 2020 da Andriani che viene spesso citato, quello all'interno della psichiatria femminile viene differenziato tra le varie forme di ADHD, questo studio ha fatto vedere che il disturbo disforico-vermestruale, i disturbi episodi di pressione postpartum, il sintomo di un numero climaterico, tutte queste fasi purtroppo nel caso ci sia una persona sofferente di ADHD sono peggiori, tutti gli item che venivano fatti erano in qualche modo quadri che erano più pesanti rispetto agli altri. Prego, vai pure avanti. Bene, quale terapia? Questo avevamo fatto nel 2017 a Tormina, un seminario, tra l'altro con Giudda, saranno i primi seminari che facciamo assieme, con l'energia infantile, noi eravamo dentro tutto il tempo in questo bell'albergo, a parelli di ADHD, poi fuori c'era tutta a cereale, tutta era messa piena di questi di Mago Giuse che in qualche modo, in quattro occhi risolvono dei problemi. Quanti erano? 500 psichiatri in questo albergo? A domandarci come fare, poi ci sono persone che non vengono più semplici. Vai pure avanti. Cosa fare per il trattamento? Purtroppo ogni medico e una psichiatra vede le cose che fa ogni giorno, è andato di fatto. Se io vado da una psichiatra che fa disturbi affettivi, vado a Pisa e mi trovo, escono tutti con un disturbo affettivo, vado dove si occupano di disturbo di personalità, escono con il disturbo di personalità, dove vado magari a trovare un'altra università che si occupa di un altro tema, escono un'altra diagnosi. Purtroppo l'esperienza personale va a condizionare un po' il diagnosi che noi andiamo a fare. Sicuramente allora i sintomi cardinali che ci sono, copressione della di accadini, di autoregolazione, portano queste persone ad avere problemi nell'organizzazione, insomma a fare delle esperienze negative, la vita porta ai fallimenti, questo rinforza le disfunzioni cognitive, la comprensione effettiva, le limitazioni funzionali e questo come dire va ricostruito. Ricostruito, rinunzione nella terapia, definire i presupposti funzionali di base, queste persone, imparano le competenze, per anche a livello psicosociale bisogna ricostruire tutti questi aspetti. Vai pure avanti, questo l'ho ripreso dell'S3, delle linee tedesche, ci sono tante linee guida, in Italia mancano linee guida per l'HD, ci sono le psichiatri infantili che sono vecchie, nell'adulto mancano linee guida per tutti i campi della psichiatria, ovviamente ci appoggiamo classicamente alle NICE oppure alle tedesche, noi a Bolzano ci appoggiamo quelle tedesche, queste sono le S3, le avevamo fatte ancora nel 2017-18, adesso le stanno rifacendo, le vuole uscire durante l'estate, più o meno saranno uguali, cosa si fa? Qual è il procedere terapeutico classico, come funziona? Viene una persona che ha l'ADD, viene proposto in prima battuta un intervento psicoeducativo sul paziente e sui familiari, un intervento comportamentale è molto semplice, se ci sono problemi associati, ma le altre malattie associate, in primo piano queste vanno curate, come va curato, se un disturbo anansi va curato, insomma direi come tutti gli disturbi d'ansi, un disturbo effettivo, un disturbo curato, se sta bene, si si sferma qui, si continua così, se i sintomi sono a controllo non c'è bisogno di fare altro intervento, non fosse che sotto controllo dei sintomi, si propone un trattamento farmacologico, controllando il dosaggio, gli effetti collaterali, la terapia, si vede se il trattamento è efficace e ben tollerato, non funziona, se funziona si finisce qui, se non funziona si aggiunge magari a livello comportamentale un altro intervento, di gruppo oppure una psicoterapia personale, se basta così, va bene così, se no si rivede la terapia farmacologica, quindi è un circolo, l'intervento generalmente funziona, noi offriamo a Bolzano una terapia su quattro pilastri, generalmente facciamo vedere il tempietto, viene spesso adesso Holzer in giro a fare il nostro tempietto sui vari quattro pilastri di intervento, offriamo sicuramente gli interventi farmacologici d'accordo, però psicoducativi, di gruppo e poi interventi psicosociali che anche questi sono importanti tramite una presa in carico. Tutte le terapie cognitivo-comportamentali sembrano avere dati di efficacia, adesso stanno facendo la Philips e Cortese che mi sembra anche Barbui, fanno questa nuova meta-analisi sui disturbi comportamentali, dovrebbero uscire a breve, in ogni caso i dati attuali dicono che la terapia cognitivo-comportamentale, sia con un gruppo di controllo, sia alla farmacoterapia, sia rispetto agli interventi non specifici, in qualche modo funziona nella cura dell'ADHD. Tutte le linee guida, però, tutte le linee guida mondiali mettono nelle forme lievi sicuramente l'intervento psicoducativo, ma quando il quadro si complica, anche la terapia farmacologica, anche questa da affiancare poi il trattamento. Le NAIS sono meno interventiste dal punto di vista farmacologico, le S3 sono un po' più interventiste, consigliano anche sulle forme lievi il trattamento farmacologico, ma tutte sono concorde nel dare il farmaco. farmaci ne sono tanti, in Italia purtroppo ne abbiamo di meno, abbiamo solo un farmaco che nell'adulto è lo straterra, i metafini dati si possono andare solo in continuità terapeutica, qualora sia stato registrato in infanzia, oppure deve essere dato off-love, è importante sempre però associare anche un intervento psicoducativo. Cosa dice, questo è Cugil che ha fatto questo studio, è piccolino, come esistica, Gianni ha invitato, mi sembra il 25 maggio, fai una relazione con Cugil, tu a Cagliari, da parte iniziale. Cosa dice questo studio di Covid? Dice che non c'era una chiara correlazione, i farmaci mi vanno sui core symptoms, vanno sui sintomi dell'attenzione, cioè io do il farmaco, do il metafinidato e facciamo la prova, un paziente viene a me, mi risponde e dice effettivamente stavo bene, i nostri algoritari poi stimolano l'utente, vediamo se è più o meno disattento e stimolandolo proprio lui dice ma io ero più focalizzato, cioè i farmaci stimolanti hanno subito un effetto su questo aspetto di problema di concentrazione, questo è subitaneo, dopo mezz'ora o un'ora già questo effetto. Però cosa dice Cugil? Sì, hanno un effetto sui core symptoms, però per cambiare poi la funzionalità di questi utenti è importante in qualche modo fare anche un intervento educativo poi. Io faccio sempre l'esempio, se una persona a 20 anni, 30 anni scopre di avere una gamma più corta dell'altra ed è abituata a camminare in modo un po' storto, l'ortopedico le mette un sottotacco di 4 cm, le gambe sono uguali, cammina di nuovo dritto, però bisogna fare la fisioterapia, se no quello si è abituato ad andare storto, continua ad andare storto. Quindi un intervento educativo è sempre importante, non basta solo la terapia farmacologica, ci vuole anche un appoggio anche psicoterapeutico. L'effetto dell'ADHD e della terapia farmacologica è buono, questo è uno studio che l'ha fatto lo stesso autore Chang, che ha fatto lo studio prima che ho fatto vedere Coreano, dice che i farmaci hanno a breve termine, su un anno, su lesioni e traumi, sincendi stradali, elevato l'istruzione, criminalità, c'è un effetto positivo su tutti i sintomi. Sul lungo periodo non abbiamo dati purtroppo, ma questo è un problema che mi ha detto in generale, però nel caso vai pure avanti, hanno un chiaro effetto, vai pure avanti. Sul farmaci, adesso questo è un studio che mi hanno spesso citato, dice che le anfetamine funzionano, dati sui tempi sono, ci sono, ci sono ovviamente effetti collaterali, sicuramente le forme, i pro farmaci, le forme RETAR sembrano essere ben efficaci, la disinfetamina purtroppo non c'è più in Italia, ma sembra essere molto efficace. Vai pure avanti, vai pure avanti, guarda, lo assumo questo qui, è lo studio di Cortese che ci stiamo di volta in volta, vai pure avanti, faccio vedere solo l'ultima. Quello che dice che questo è stato in tutte le linee guida, questo studio Cortese è un Veneto che lavora in Eglaterra sul tempo, c'erano dentro Barbui, c'erano dentro Cipriani, c'erano dentro Testari che è un collega mio che lavora con un sacco di italiani, c'erano dentro, eppur questo studio fatto di italiani in Italia non viene dato il farmaco. Allora, cosa che dice? Allora, la prima scelta nei bambini in Italia non viene dato il farmaco. Tanto lo studio fatto di italiani sia scritto di italiani, citato di tutto il mondo, in Italia non viene dato il farmaco, come dire, italiani citato Cortese, a dire guarda questo qua, e noi invece non c'è. Cosa? Sì, siamo in Cortese. Sì, vabbè, però in italiano, insomma, siamo orgogliosi da questo punto di vista. Gli altri sono italiani, Barbui in Italia, e Testari è anche italiano. Vabbè, cosa dice? Anfetamina è prima scelta negli adulti, mentre il finidato è nei bambini. Anche l'anfetamina era più efficace nei bambini, solo che aveva un profilo di tolleranza efficace che era un po' sfavorevole, e quindi prima scelta rimane invece il finidato, negli adulti invece rimane l'anfetamina, adesso l'anfetamina soprattutto le forme retarda come prima scelta. Vabbè, buon avanti, questo ve lo sceltiamo. La tomoxetina. La tomoxetina è un farmaco assolutamente non radenergico, non so se lo conoscete, funziona come un farmacente depressivo, funziona generalmente dopo che viene dato il primo dosaggio, dopo due mesi. Ho utenti che lo supportano bene e sono contenti, vanno avanti bene con questo farmaco. Prendolo privatamente costa, costa 80 Euro, però essere iscritto nella pagina alfa, costa 2 Euro, quindi con ricetta rossa ha un costo anche ovviamente nulla. E devo dire, è il farmaco però secondo l'ineguida di seconda scelta, non di prima scelta, non è il farmaco di prima scelta nell'adulto. Mitifinidato sicuramente nel bambino a prima scelta, noi lo usiamo come prima scelta nell'adulto, è un farmaco abbastanza maneggevole, andiamo avanti. Non abbiamo l'infetamina in Italia, noi i pazienti li ammendiamo in Austria, in Germania dove ci sono, soprattutto la lista di anfetamina, è un farmaco fantastico, funziona bene, è da un profarmaco, ha un scarso rischio di abuso, quasi nullo. Questi farmaci hanno dei chiari effetti, come dire, colatari ci sono, poi per avanti, su tre aspetti importanti. Primo, nella gravidanza, questo studio riporta che non c'è alcuna associazione tramite i fini dati o malformazioni in generale, però 1,65, queste madre che non ho preso durante la gravidanza, avevano un rischio di malformazione a livello stato cardiaco del bambino, quindi se sono donne in gravidanza siamo un po' più attenti nel darlo. Per quanto riguarda il rischio di infarto, gli ADHD hanno un rischio maggiore, chiaramente maggiore di rischio cardiovascolare rispetto a un ADHD, quindi a prescindere che per una terapia oppure no, soprattutto se è giovane, va fatto fare una visita, un ECG, un'entremisa cardiologica, viene sempre consigliata, perché sostanzialmente hanno un rischio maggiore di andare incontro a un evento cardiovascolare, quindi questo va fatto sempre, questa meta-analisi dice questo. Poi per avanti? Però, per fortuna, i dati attuali dicono che se viene curato con i nostri farmaci, anche stimolanti, che purtroppo aumentano un po' la pressione, aumentano un po' il batterio cardiaco, questa meta-analisi dice che non c'è una correlazione, il rischio non aumenta, meno i dati attuali dicono che il trattamento farmacologico non aumenta un rischio di un evento cardiovascolare negativo. Italia e farmaco, un disastro, e poi avanti, qui la pressione l'ha fatta da Stacconi, dicendo che quanto viene meno prescritto, la pressione ha fatto dal suo libro, insomma. Allora, se in paesi europei si arriva a prescrizione del 2-5% della popolazione, appena mette il finidato, qui arriviamo a un millesimo, un diecimillesimo, quanto siamo, vuol dire che noi curiamo, loro curano un'altra cosa, noi curiamo questa cosa. Nuove molecole, vabbè, non ci sono neanche quelle attuali, le possiamo utilizzare, sicuramente però ci sono dei studi attuali, io ho portato solo la biloxazina, che è un farmaco di un rademergico, che dovrebbe uscire già, è uscito negli Stati Uniti, dovrebbe arrivare anche in Germania e in Austria, è simile probabilmente all'ottomoxetina, quindi nulla, 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 non c'è un grande cambiamento. Naturalmente il trattamento va sempre inquadrato, i farmaci danno una mano, però quando una persona viene va, uno va corretta, che ne so, l'abitudine alimentare, va, anche se sembra banale, però lo dico a tutti gli utenti di me, fare attività fisica e terapeutico, punto. Una persona a GHD che fa tanta attività fisica riesce a scaricare parte delle tensioni interne, quindi a tutti, se può farlo, viene consigliato di aumentare l'attività fisica, questo funziona. Il sonno anche va curato, va anche cercato di regolarizzare il sonno, perché curando questi aspetti abbiamo già un grande miglioramento e dare solo il farmaco a una paziente e poi non andare a curare questi aspetti qua non va bene, fa sì che poi il farmaco anche non funzioni. Allora, il trattamento ha un effetto? Sì, ha un effetto, hanno un effetto dopo molte settimane e sul lungo periodo non ci sono dati, vai pure avanti, sul programma di abuso ha un buon effetto, non mi va sul craving, non è che mi toglie questa impellezza, però se mi stabilizza l'utente rischio poi che questa pazienza di sostanze, sopravacenti, mi riduce. In ogni caso, dato che l'ADHD dura tutta la vita, è conosciuto l'ADHD su tutte le fasi della vita, perché una fase infanzia, adolescenza, 20 anni, 30, 40, 50, avranno un quadro clinico, un fenomeno che sarà diverso. Ultimo, io ho finito, vi ricordo solo tre cose, la nostra applicazione sul, noi facciamo la nostra applicazione gratuita, se qualcuno lo vuole utilizzare basta che ci contatti, ho uscito nel nostro libro, abbiamo due eventi, il primo, come ha detto la collega, il primo aprile è il vostro, poi c'è quello dell'Erikson il 22 aprile e noi rimaniamo sempre in contatto anche da verso la GAM per eventuali informazioni. Io vi ringrazio l'attenzione, spero di essere stato chiaro, vi ho dato qualcosina in più nelle vostre conoscenze. Grazie. 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 Grazie.